I tagli contenuti nel decreto sicurezza stanno producendo i primi effetti sull'accoglienza dei migranti anche sul territorio provinciale terramano, situazione che sta mettendo a rischio i posti di lavoro di quasi la metà degli operatori della Medio Ospes, la cooperativa sociale che gestisce diversi punti anche nel territorio provinciale. Il taglio annunciato dalla Medio Ospes in provincia di Teramo è notevole, 26 unità su un totale di 58 operatori, ma una lunga trattativa portata a un'ipotesi di accordo per evitare i licenziamenti. Una situazione naturalmente è una pezza ad un buco ben più grande. Per il momento è salvaguardato il livello occupazionale di chi opera sui centri di accoglienza di Basciano, Campi e Canzano e gli Sprar di Roseto e Teramo. Certo il sistema dell'accoglienza sta subendo dei forti ridimensionamenti e soprattutto quello che se ne paga di più è la scarsa qualità che nonostante gli sforzi degli operatori necessariamente si offrirà ai migranti. Ad essere ridotti sono le ore di insegnamento, anzi vengono proprio escluse dai nuovi bandi dell'accoglienza, le ore di insegnamento della lingua italiana, quelle di assistenza psicologica e le ore di mediazione. Tutto ciò che qualifica il sistema dell'accoglienza. Quanti sono in totale i lavoratori a rischio? È un'avvertenza nazionale, sono 351, parliamo solo della cooperativa Medi Ospes perché il sistema dell'accoglienza in Italia, i posti a rischio sono circa 18.000. Tornando invece a Medi Ospes, 351 in Italia, di questi 351 26 in provincia di Teramo, 26 su 58 addetti e quindi capite bene che stiamo parlando di percentuali con una certa incidenza.